Ricordo ancora che il numero 5 Venezia Labie è guidato da Antonino Porzio che sostituisce il figlio Giuseppe, evidentemente indisposto. Adesso tutto è pronto, 3.03 la quota di Valleluia Lux, anzi adesso 2.94, quando le puleidre alla via si stanno allineando. Tutto è pronto, si va in partenza. Prima corsa di Palermo in pista a puleidre di tre anni sulla breve distanza, a favore al gioco per il numero 2 Valleluia Lux, diversi cavalli in difficoltà nella fase di lancio, in particolare il 5 Venezia Labie, adesso sbaglia anche il 7 Vedretta RL. Ed è Valleluia Lux alle prese con Viola Cup, poi 20 miglia GV, al cui interno filtra Villa Rosina. Nel frattempo sfila in avanti Viola Cup nei confronti di Valleluia Lux e di Villa Rosina. All'esterno 20 miglia GV che prova ad avanzare ma viene prontamente anticipata dalla mossa di Antonio Velotti che con Valleluia Lux si porta all'esterno di Viola Cup. L'impressione è che Viola Cup voglia mantenere il comando, vedremo un po' adesso su questa dritta. 20 miglia GV, abbozza la terza ruota, poi ripiega ancora Gaspare Lo Verdi, adesso insiste, Valleluia Lux, ma stenta a passare, lo fa adesso davanti alle tribune, ma adesso deve sorbirsi l'attacco di 20 miglia GV. 46,9 da 1,18 ed un pelo ai primi 600 metri con 20 miglia GV che è riuscita a sfondare da fronte al comando. La penultima piegata seguita da una Valleluia Lux che ancora una volta sembra già in difficoltà a straguardo lontano, ripetendo un po' le difficoltà mostrate all'ultima uscita. Di fuori a Valleluia Lux c'è il numero 9 di Villa Rosina, poi anche Viola Cup. Nel frattempo è diventato oceanico, il vantaggio di 20 miglia GV che ha coperto il primo chilometro da meno di 1,17, 1,16,7 sul cronometro. Vantaggio notevole per la debuttante 20 miglia GV che ha fatto dispersione, ormai corre contro se stessa. Gli avversari non vengono inquadrati dalla telecamera perché davvero ci vuole un'inquadratura molto molto ampia per andare a vedere chi è alle spalle di 20 miglia GV e sempre comunque Viola Cup. a mantenere il secondo posto nel frattempo andiamo a vedere se 20 miglia GV completa nel migliore dei modi il suo solitario percorso in avanti. Così è infatti nettissima la vittoria di 20 miglia GV con Gasper Eloverde mentre per il secondo posto in lotta Viola Cup e Veracam che concludono nell'ordine. Nel totale dunque 1,17 un filo scarsi, 2,3,1 sul nostro cronometro per il miglio della vincitrice 20 miglia GV, quota di 4,48. Il training è di Francesca Croce, i colori sono quelli del signor Gianluca Franceschilli, vittoria davvero larghissima, male tutti gli avversari, bene comunque Viola Cup che non era certo fra le più attese ed ha concluso al secondo posto respingendo Veracam in numeri 4,3,8 l'ordine d'arrivo da confermare della prima corsa di Palermo. Grazie a tutti.